Quando riaprirà definitivamente Corso Umberto? Abbiamo già riaperto il Corso fino a Luisa Spagnoli, fino quasi a Via Sulmona, quindi siamo arrivati quasi alla fine di Corso Umberto. I lavori proseguono in maniera molto serrata, sono ripresi dopo le festività estive e in maniera tale da concluderli tutto entro i prossimi dieci giorni al massimo. Oramai ci siamo, i lavori si stanno completando, siamo molto contenti perché il Corso ha un'altra immagine. Nei giorni scorsi abbiamo a Piazza Sacro Cuore organizzato una manifestazione bellissima, un concerto di violini di altissimo livello e la location era meravigliosa. Oramai è cambiato tutto, Piazza Sacro Cuore con la chiesa in evidenza, con l'illuminazione, con le fontane e Corso Umberto diventerà uno spettacolo di passeggiate in mezzo al verde. Dunque diciamo ai cittadini e ai commercianti che entro, mi pare di capire, due settimane il corso sarà ultimato e riaprirà al pubblico. Diciamo che a fine settembre realisticamente potremo riaprirlo tutto il corso, poi dovremo operare sui dettagli, dovremo operare all'incrocio con Via Firenze, all'incrocio con Piazza Sacro Cuore per completare la pavimentazione, metteremo le panchine, ma diciamo che entro il 15 ottobre sarà definito anche l'ultimo dettaglio. Quindi la data è 15 ottobre? La data di riapertura è fine settembre, per i dettagli e la bellezza complessiva 15 ottobre. Anche perché, Sindaco mi scusi, G7, i grandi della terra altrimenti dove passerebbero? Sì, i grandi della terra, le delegazioni che verranno a pescare da tutto il mondo faranno la fotografia ufficiale alla nave di Cascella, quindi vedranno la nostra spiaggia e il nostro mare, si vedrà quella fotografia, quella cartolina in tutto il mondo. Poi passeggeranno su Piazza Salotto, Corso Umberto, fino a Piazza Sacro Cuore e all'Imago Museum. E Piazza Sacro Cuore il 15 ottobre vedrà il montaggio di una struttura delle organizzazioni non governative, come la FAOS o Save the Children, che parleranno di sostenibilità ambientale. Quindi i grandi della terra passeranno sul corso, dovrà essere bellissimo il suo ambiente rigenerato.